Buonasera e benvenuto alla Night Session su Bitcoin con Analisi Evoluta, un metodo statistico-matematico non discrezionale di cui puoi imparare tutto per controllare ciò che dico e vedere se è corretto grazie alla chiudia che puoi scaricare su analiseevoluta.com Allora, ti avevo raccontato che avremmo potuto salire per andare a superare sia questo massimo che questo massimo e per creare la condizione necessaria e sufficiente per chiudere non soltanto questo terzo ciclo settimanale inverso Che cosa è successo? Esattamente quello che ti raccontavo Abbiamo visto proprio questo processo di salita e di chiusura di inverso Successivamente, esattamente come ti avevo raccontato e poi andarlo a controllare come di consueto sul primo canale italiano che parla di cicli e di crypto piuttosto che di indici e commodity Successivamente abbiamo avuto una bella discesa e abbiamo violato già degli swing per cui ho già comunicato al gruppo premium che cosa può succedere in base a quello che stiamo vedendo La prima cosa è che abbiamo avuto un ciclo, un nono ciclo giornaliero che si è interrotto alla 37esima barra dopodiché è partito in sordina senza la violazione dello swing un decimo di meno 3 che è arrivato in questo momento a 24 barre più 1 Quando vedo questa lateralità guardo immediatamente il Tecnica 2 che è un'esclusiva ovviamente di questo canale che non esisteva nella vecchia analisi ciclica di Hurst nemmeno in quella del migliorino e vedo che i volumi sono veramente scarsi Oggi è stata una giornata di volumi scarsi dappertutto sia sui mercati tradizionali che anche qui Infatti abbiamo avuto lateralità allora rimbalzo, lateralità, discesa, rimbalzo, lateralità Diventa difficile fare trading in questo modo Mi auguro che passato appunto il mese di agosto si ritorni a dei volumi più ragionevoli a partire appunto magari da settembre dato che siamo al 26 di agosto ormai non manca molto Che cosa possiamo dire relativamente alla situazione attuale? Primo, da qui appunto avendo avuto 23 barre la 24esima dovremmo andare a chiudere in maniera decente oltre la 24esima barra il nostro decimo T-3 però con pochi volumi rimango sempre estremamente guardingo 63.152 dollari quindi mi metto un allarme chiusura T-3 sappiamo che abbiamo il tempo dalla nostra qui c'è la tabella del tempo quante barre da 45 minuti ci vogliono per fare un decimo T-3? come minimo a volte anche solo 23 noi siamo già 24 più 1 abbiamo soddisfatto il fatto che siamo sotto questo minimo con questo minimo qui dovremmo tornare come già detto a volte fanno i simpatici appunto quando i volumi sono troppo bassi preferisco astenermi dal fare trading quindi aspettare momenti più propizi per fare trading intanto in gain siamo andati ok di inverso siamo arrivati a 24 barre anche qui perfettamente più altre barre qui abbiamo creato la condizione necessaria e sufficiente per chiudere il primo ciclo giornaliero di inverso da massimo a minimo a massimo e da qui possiamo già dire che potremmo persino già essere con un bel punto di domanda ma con le regole della nostra sul secondo ciclo giornaliero di inverso ok e voilà e quindi mancherebbe appunto un pezzo in discesa abbiamo perso la media mobile facciamo attenzione abbiamo perso la nuvoletta cumo quindi che cosa faremo? 1. attenderemo appunto che chiuda il nostro decimo T-3 magari appunto tornando sotto questo minimo per fare un lavoro più pulito di quello che stanno facendo in questo momento con la lateralità e poi ragioneremo di che cosa? di mettere un allame su questo massimo per vedere se eventualmente chiuso il decimo T-3 vorremmo rimbalzare e andare a vincolare questo secondo T-3 superando questo massimo a 63.966 dollari ok vincolo a rialzo solo se ci arriveremo prima della 23esima barra di inverso in questo momento quante barre di inverso siamo? siamo soltanto a 5 ok già bisognerà vedere come chiude questa sì perfetto appena chiuso perché sono le 23.02 sta partendo appunto la nuova qui ci sono i due allarmi siamo sotto la media mobile siamo tanto in lateralità vediamo se ci da prima una discesa e poi appunto un rimbalzo per la chiusura del secondo T-3 ok attenzione perché qui sotto non è che abbiamo resistenze particolari anzi devo controllare che cosa ci racconta il T-2 e il T-3 cosa ci raccontano quelle e eventualmente appunto posizionare un target anche per l'eventuale continuazione di discesa se vorranno smettere appunto con questa lateralità tolgo soltanto la previsione di rialzo sopra questi due massimi che si è realizzata in maniera corretta e se questo video ti è piaciuto metti un bel like e condividi il canale con tutti gli amici buona serata